Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un applauso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto grazie. Sapete perché vi ringrazio? Vi ringrazio perché voi avete fatto con questo carnevale il gesto più bello del mondo. Qual è il gesto più bello che può esserci nel mondo? Non vi potete rispondere perché siete tanti, ve lo dico io. Avete dato gioia. Io vorrei che da questo carnevale venisse questo bel augurio per i piccoli e per i grandi, che sappiamo tutti darci gioia a vicenda, invece che darci dei pensieri e dei dispiaceri. Questo è il significato del carnevale. Vorrei ringraziare tutti coloro che l'hanno organizzato, ringraziare le scuole cattoliche, i genitori. Ho visto dei genitori in maschera. Complimenti, l'hanno prossimo tutti i genitori in maschera. Chissà che anche il vescovo non ci pensi. Batte il cuore a me, scusate. Cuore in festa! Primo premio a scuola materna, la carica invece al teolo!